Ciao a tutti ragazzi, qui è un saluto e vi abbono in questo nuovo video. Siamo qui oggi con Killing Floor e siamo con... Lugatina, bella a tutti. E c'è qui un altro qui sconosciuto che non conosco, un giocatore online così, a buffo. E niente, siamo qui oggi con Killing Floor che da una settimana circa è un'offerta su Steam a un monico prezzo di 6,12€. Quindi se avete dei saldi da parte, comprate questo gioco perché è veramente eccezionale. Se non l'avete capito... Garantisco io che me l'ha consigliato quello che parla. Infatti l'ho convinto anche qui Luca Archita a comprarlo. E credo ne sia rimasto anche soddisfatto. Grazie. No perché me l'ha consigliato tu guarda, questo qua non l'ho più soddisfatto. Ah quindi qualsiasi gioco ti avrei consigliato allora l'avresti comprato lo stesso. Sì però mi avrebbe fatto schifo. Ah ecco. Comunque ragazzi se non l'aveste capito in questo gioco dovremmo uccidere zombie e altre specie di mostri. Sopravvivere all'ondate. Appunto dovremmo sopravvivere appunto ai zombie. E una cosa bella di questo gioco... Chi è me li ruba? Uh! Beh mi ho fatto le altre scelte una scoop. E tu mori. Stavo dicendo appunto che una cosa bella di questo gioco è il workshop. Che cos'è workshop è semplicemente una specie di negozio all'interno di Steam in cui ci sono tutte le mod che diciamo creano altri utenti di Steam e sono gratis a tutti gli utenti che hanno... che possiedono il gioco. Per esempio ci sono tante mappe aggiuntive, tante armi... E tante altre cose. Io manco il D-code. Anche sì. In questa vista che sto so... Grazie di me lo lasciato Fabio. Ma tranquillo. Prego. Allora... E mancano dieci ma non so dove... Ma tanto quell'altro che si sa fare kill? Ma eh ma l'altro tizio dov'è? Oh c'è sta ciccione, c'è sta ciccione. Non lo so se dov'è sta fare stragi. C'è sta ciccione. C'è sta ciccione. Io qua. Oh io... Doh sta... La staccata a capoccia, Fefe. Oh! Ma non è mai 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 morto. Sto ciccione del merda. Ok. Oh avviciniamoci al negozio. Ah ma sono sono munizioni. Avviciniamoci al negozio. Sta qua sopra. Eh non proprio qua sopra. Più di cento metri. Eh sì. Coltellino. Coltellino così va più veloce. Corri. Salta 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 salta. Ok ne manca... Abbio 40 km in rai che non li superai. Ne manca uno di zombie. Ci penserà l'altro tizio sconosciuto. Ok siamo gladi qui. Perfetto. Ok l'altro tizio sconosciuto... No ma pure lì sta davanti a noi. Eh sta venendo verso di qua quindi non l'ha trovato neanche lui l'altro zombie. Lo cerco io. Lo cerco io. Ok cacciamo questo zombie vediamo. Se riusciamo a trovarlo. Eccolo. Eccolo. Questa dovrà il panzone del merda. Uccidilo. Se lo trovo così. Eccolo. Ho pochissimi soldi intanto. Vediamo se riesco a prendere a me. Almeno una cosa decente. Potrei prendere la mech. Allora io... 524 sto 4.50 Cosa stai fa? Prendo lo shotgun. Sì. Oh ok. E lo cagliamo al massimo. Io che mi prendo? Non so che prendere. Mi finno tutti i soldi. Io mi prendo... Che va fa? Non si ball up. Oppure... Dipende dal... L'action rifle. Dipende da... Da come ti piace. POMPA O MITRAGLIA? Mitraglia. Va fa mal pompa. Fa mal pompa. Fa mal pompa. Ogni riferimento ha... Ha azioni appuramente casuali. Ah eh. Certo. Ok. E mancano 3 secondi. Stanno per arrivare la seconda onda dei zombie. Purtroppo in questo video non vi... In cui non mi riferisco. Eh appunto. Spieghiamo... Spieghiamo di no. Eh... In questo video purtroppo non vi farò vedere l'intera partita perché dura... All'incirca una trentina, quarantina di minuti. Tutta la partita. Sempre se riusciamo a sopravvivere. E quindi non ve la faccio vedere per l'intera. Forse questo round... E basta. Justo per farvi... Che cos'è? Io intanto mi sto allontanando. Sto scappando dal pericolo come un codardo. Intanto io ho 292 di ping. 292 di ping? A me mi... Sì. Perché sto tipo facendo 8 azioni contemporaneamente. Scaricando, renderizzando. A me mi... Con 8 computer accesi quasi. A me me segna 40 però fissi. Però ogni tanto... Mi sale a 900 per... Tiove in secondo. A me mi segna 300 fissi ogni tanto uscirne, dai. Ok, in questo round non sono riuscito ad uccidere nemmeno uno zombie. Eeeh... Eeeh... Shot bitch. Comunque appunto questo video è solo per farvi vedere un po' le meccaniche di questo gioco. Mori, 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 mori. Eeeh... In futuro se... Se questo video vi è piaciuto... In futuro vi farò se volete qualche altro video. Magari anche una video recensione su questo gioco. Eeeh... Comunque niente ve lo consiglio. Se... Se avete appunto... 7 euro da spendere su Steam. Compratelo. Spero che sia ancora in offerta. Eeeh... Sì, sì, ancora in offerta. Beh, bene. Compratelo. Magari ci facciamo anche qualche partita insieme. Eeeh... Ok. E mori. Ok, mia di merda che ho. Se sapeva. Eh, grazie. Non c'era bisogno di dirlo. Ok, fumo per l'aria. Io col coltellino vado in giro per fido di colpi. Sono povero. Sione... No, no, ma il market non sta laggiù. Guardi il coltello da lontano. Spam! Coltellare l'alentatore, la Maggie. Ok, non ci va a salire qui. Ho finito colpi la pistoletta, no. C'è il maggior movimento di zombie. Ok, salgo qui. E lo scioppo. Dirigiamoci verso il negozio intanto. Che tanto stanno per finire. Curamoci intanto. Giusto, giusto. Visto che sono medico dovrei farlo io. Occhio. Oh, ho sparato, aspetta. Però tu non lo fai. Sta calmo. No, me ne so' accorto. Ok, siamo a 70 metri da lì. Non posso stare qua. Non posso stare qua. Non posso stare qua. Ma dove sta a disposizione qua dietro? E' tutto questo coso? Eh? No, sta più giù negozio. Sta più giù negozio. Si sta sta qua dentro sotto a sotto a un tunnel di posto. Entra sotto a una città. A casa città. E' da bollito. Poco una casetta. Ok. Bunker è sotto galleria, eh? No, è un bunker. A che siamo scesi se ancora dovevano finire tutti i zombie? Appunto, eh. E' detto dirigiamoci, poi alla fine una parola dire l'altra siamo scesi. Che sei entrato? Uh, munizioni. Io sto qua fuori. No, eh, molto. Fabio, me la lasciate, vero? Eh? Munizioni! Per la prossima volta. Mie! Ok, un altro zombie. Oh, un panzone. Non more. Ok, mi ha vomitato addosso. Ok, finito. Adesso possiamo andare a me. Dai, andiamo a coprire, andiamo a coprire, andiamo a coprire. Questo sta a morire. Cura quello là, vai. C'ha... Non c'ha pita. Che che? Ma che ci stai... Ma che ci stai... Ma che sei stupido? Fe, 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 fe. Che brutto ritardato mentale! Vai, andiamo. Che ritardato mentalista. Ok. Andiamo a curare questo, vero? Tanto è molto forte. Ci do una grande mano. Oh. Ok, possiamo prenderci... Alla, come posso via? L'armatura medico. L'armatura medico... Eh... Consente appunto di... Poter sparare con un fuoco secondario... A un compagno e curarlo. Molto buona come cosa. Infatti, d'altro... Io ho comprato l'armatura e munizioni. Io ho comprato l'MP... No, MP7... E munizioni. Grazie, siamo lasciati fuori. Tranquilli. Ok, grazie. Comunque... Non so a quanto siamo agliati di minuti... In questo video. Comunque, niente. Diciamo, concludiamo qui il video. Se il video vi è piaciuto... Questo gioco vi piace... Scrivetemelo nei commenti. Magari, provvederò a farti... Qualche altro video... Qualche altro dual... Magari, sempre con Luca Kida. Oppure vi farò anche la video... La video recensione... Ve la farò sicuramente. Niente, per questo video è tutto. Vi invito a lasciare un mi piace... Un commento... E se non siete già... Iscrivetemi. Quindi, allora, as tutto. E... Bye bye da... Italiano as tutto. E... Da... Luca Kida, bella. Bella.